partiti Lungo la corda Ablam e Luna passa in vantaggio sotto la pressione esterna di Best Memories in terza posizione shakerando davanti a Dea Giulia quindi Berbera segue porta a porta e più staccato rimane Diadema Ablam e Luna prosegue in vantaggio dopo i primi 600 metri di corsa con vicino Best Memories poi Berbera con all'esterno shakerando seguono Dea Giulia ancora porta a porta e più arretrata Diadema Cavalli ora all'imbocco della curva di fondo con Ablam e Luna che prosegue in vantaggio nei confronti di Best Memories avvicinata all'esterno da shakerando quindi Berbera ancora porta a porta a Dea Giulia e Diadema Lungo l'arco della curva non avvengono cambiamenti e Ablam e Luna è sempre leader nei confronti di Best Memories avvicinata all'esterno da shakerando che si porta a centro pista appena in dirittura seguita da Berbera e porta a porta siamo a 500 dal palo Ablam e Luna Best Memories e shakerando sono in linea davanti a Berbera e porta a porta sta allungando shakerando tallonata all'esterno da Berbera quindi porta a porta siamo a 300 dal palo con shakerando attaccata a fondo da Berbera i due sono in lotta shakerando all'interno Berbera a largo nel tratto finale i due si staccano in lotta con shakerando all'interno attaccata a fondo da Berbera ma nel finale è shakerando che si impone su Berbera al terzo posto porta a porta su Dea Giulia andiamo a rivedere le immagini con Dario Vargiù in sella shakerando che hanno mantenuto la meglio dopo lunga lotta con Berbera e Carletto Fiocchi quindi sul traguardo al primo posto il sette di shakerando al secondo l'uno di Berbera al terzo il sei di porta a porta grazie 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 grazie